La cardiopatia ischemica resta una delle problematiche maggiori perché l'allungamento dell'età media, le cattive abitudini alimentari, il fumo, la sedentarità concorrono ad alimentare questo tipo di patologia. Le tecniche utilizzate nella cardiopatia ischemica sono molteplici. La tecnica ecocardiografica che è quella di cui abbiamo parlato oggi e di cui stiamo parlando oggi è estremamente importante perché è una tecnica direi ormai molto diffusa sul territorio nazionale e questo fa sì che in qualsiasi posto, in qualsiasi città, in qualsiasi paese in cui c'è un ambulatorio di cardiologia, non solo ospedale, è possibile ottenere delle informazioni molto importanti in questi pazienti affetti da cardiopatia ischemica. Lo sviluppo di nuove tecnologie ha migliorato notevolmente la sensibilità, la specificità, nel senso ha migliorato la potenzialità diagnostica della tecnica e questo offre dei vantaggi indubbi soprattutto per quanto riguarda la stratificazione del rischio che questi pazienti hanno col passare degli anni. Quali sono i pazienti più a rischio? I soggetti più a rischio sono quei pazienti che hanno delle alterazioni strutturali cardiache importanti, quindi hanno un'alterazione della funzione del ventricolo sinistro che si presenta dilatato, diffusamente con delle alterazioni anche del movimento della parete importanti, sono pazienti che hanno più fattori di rischio cardiovascolari, più anziani, qui sono tutti questi pazienti che bisogna seguire molto molto attentamente perché ovviamente sono i pazienti che possono creare dei problemi da un momento all'altro.